Andrea Camilleri La mossa del cavallo Sesta parte Ancora lunedì 3 settembre 1877 Alle quattro di dopo pranzo la carrozza di Donna Cesina si fermò davanti al cancelletto di legno lasciato accostato. La fimmina sporgì la testa del finestrino, tagliò la casa. Porte e finestre serrate, ma non si fidava, non voleva fare mala figura. «Vai a tupiare alla porta», disse a Michilino. Il picciotto lassò le redini e corse lungo il viottolo. Donna Cesina lo vide tupiare diverse volte, ma nessuno venne a rapriri. Rassicurata, Scinni andò alla porta. Tirò fora da una sacchetta della sottogonna un chiavino. Due ce l'aveva date al linguelino. Uno, invece, se l'era tenuto, per chi non si sa mai, raprì. Trassì. Il foresteri aveva abitato la casa manco da una giornata e mezza, e già si vedeva quel disordine che gli uomini usano fare. Acchianò nella camera di dormiri. Linguelino non si era rifatto il letto. Glielo riconsollei, amorosamente, i linsoli tirati che parevano attaccati con la colla. Raprì la porta del cammarino di commodo, sturcì la bocca per la puzza, il cantaro era pieno. «Michilino!» «Cumanni!» fece il picciotto dalla camera di sotto. Acchiana! Piglia o cantare, valla a svacantare dal re la casa nel fosso, e dopo lo lavi con l'acqua del pozzo. Mentre Michelinu faceva quello che la patrona gli aveva ordinato, donna Cesina mise a posto la camera di manciari. «Michilinu!» «Cumanni!» «Piglia i pacchi dalla carrozza e portali qua!» Dieci minuti appresso, sul tavolo c'erano un sacchetto condincio a cento grammi di caffè bono, un altro con trecento grammi di zucchero, mezzo chilo di farina, un chilo di pasta fina di Napoli, tre tazzine di porcellana con sottotazze, un cucchiarino di vero argento, un rotolo di terra matapollo finissima per fare camice, un lume di bronzo. Donna Cesina tagliò tutta quella roba compiaciuta. Il giorno appresso ci avrebbe portato magari due lucenti, pisanti cannileri d'argento massiccio a sei brazza, che le pigliava. Quello che sentiva per quell'uomo, metà foresteri e metà paesano, non l'aveva mai provato prima. Alle cinque del pomeriggio, con la testa in fiamme che gli doleva per la fatica, con gli occhi diventati quasi strambi a forza di confrontare i rapporti di sotto ispettori con la carta topografica trovata sotto lo scagno, con l'indice e il dito grosso rattrappiti per stringere la sticciola metallica del calcolatore Super Velox, che portava sempre in tasca, finalmente scoprì il significato dei circoletti rosso e blu. I circoletti rossi segnavano quante volte un mulino era stato multato per infrazioni di poco conto. Quelli blu indicavano veri e propri reati, come l'alterazione del registro contabile o la mancata denuncia di molitura. Tutte infrazioni che comportavano multe salatissime o la chiusura del mulino per un periodo di tempo da un mese in su e persino l'arresto del titolare. Se non che, i circoletti rossi e quelli blu venivano segnati a scadenze precise, seguendo un turno evidentemente prestabilito. Tutto questo stava a significare, in parole povere, che in base a un accordo i titolari pagavano, attraverso quelle multe concordate, una cifra fissa ai sottispettori, i quali, naturalmente, si guardavano bene dall'effettuare vere ispezioni. Forse nemmeno conoscevano l'indirizzo del mulino, lasciando liberi i mugnai di fare i comodi loro. Era una vera e propria mappa della mangiuga, quella che Bendicò teneva ingegnosamente nascosta in un nascondiglio che il sant'uomo avvocato Fasulo e il vice delegato alla mantia non erano riusciti a trovare, perché questo papè erano venuti di sicuro a cercare, altro che elementi per l'indagine o lettere d'amore, come aveva sostenuto l'intendente. E ora, che fare? Si macerò il cervello ancora un poco, poi trovò anche questa soluzione. Doveva avere tra le mani una prova incontrovertibile da far vedere al suo superiore. Fece ancora dei calcoli, quindi prese un foglio di carta intestata dell'intendenza, e scrisse Montelusa, lì 3 settembre 1877. Io, sottoscritto Bovara Giovanni, ispettore capo ai mulini in servizio presso l'intendenza di finanza di Montelusa, affermo che, nella riunione con i sottoispettori da me convocata per il 18 settembre prossimo venturo, accadrà quanto segue. Il sottospettore Abbate Nicola dichiarerà nel suo rapporto d'avere rilevato una grave infrazione nel mulino San Giuseppe. Il sottospettore Brancato Ettore dichiarerà due infrazioni leggere nei mulini Santa Lucia e Cristo Re. Il sottospettore Cumella Antonio un'infrazione leggera e una grave rispettivamente nei mulini San Gerlando e San Calogero. Il sottospettore Fra Gapane Filippo, da notare che non ho avuto modo di conoscerlo non essendosi presentato per sopravvenuta malattia, due infrazioni gravi nei mulini Santa Rosalia e Sant'Agata e una leggera nel mulino Santissimi Cosma e Damiano. I rimanenti sottospettori nei loro rapporti non rileveranno infrazione alcuna. Di questa lettera che indirizzo a me stesso farà fede il timbro postale. Firmò, pigliò una busta senza intestazione, ci scrisse il suo indirizzo presso l'intendenza, la chiuse. Guardò l'orologio, si erano fatte le sei. Caminiti! Ai cumanni! Vado via, a casa ho ancora molte cose da sistemare. Tanto negli uffici non c'è più nessuno, ma l'orario non è fino alle otto. Certo! E che viene a dire? Alle sei cadincia non c'è nessuno. Sentite, io dovrei andare prima alla posta e poi a farmi tagliare i capelli, come faccio per il cavallo. Un cavallo lo può lassare nella carrozzeria. Il signor intendente ha dato ordine che deve restare aperta in fino a mezzanotti per chi certe volte ci serve la carrozza e perciò un cavallante c'è sempre. Mi sapreste indicare dov'è la posta? Mi dassi a mia liccia che ce la faccio spedire con l'altra posta dell'ufficio? No, è corrispondenza privata. E beh, il ragioniere Bartolino che scrive alla zita, l'incaricato Grisafulli che scrive a Sofrati, i... Sentite, non mi interessa quello che fanno gli altri. Ditemi solo dov'è l'officina postale. Come vuole vo' sia. Appena è fuori dall'intendenza, gira a Mancina, fa tutta la sciata, gira ancora a Mancina e quella è la posta. Grazie. Un buon barbiere? O meglio del paesi, a presenti l'albergo Gellia. Due porte appresso, c'è scritto Salone in Grassia. Il sacristano sonò la campanella e pace carnazza ciasì dalla sacristia per la funzione del pespero. Fece tre passi in direzione dell'altare maggiore. Si fermò, si portò una mano all'altezza del core, variò a gitta e a Mancina, si piegò sulle ginocchia. «Mace santissima, male si sente o parrino!» fece voce una parrocciana prontamente esterica. In quattro, cinque, tra mascoli e fimmine, si precipitarono oltre la balaustra, tennero a gitta pace carnazza che minazzava di cadere in terra. «Chi fu parrì? Che si sente parrì? Non ci facesse scantare parrì!» Pace carnazza dava l'impressione da sufficare, non rinisciva a parlare. «Aria, aria!» fece uno. «Chiamato Dutturi!» fece un altro. Le due voci vennero sovrastate da quella della signora cucurullo Ersilia in Imbrò, fimmina inclinata alla tragedia che una volta aveva scanciato per terremoto una sull'enne piritata del consorte. «Nenti! Nenti! Morto è!» e intonò con voce acutissima un inno per un'anima che lascia il mondo, scritto e musicato dallo stesso pace carnazza che ogni tanto di cose spirituali si direttava. «Mondo più per me non sei, io per te non sono più, tutti tutti già gli affetti miei li ho donati al mio Gesù!» «Basta così, è meglio sto!» gridò il parrino che pativa di superstizione e si era perciò atterrito all'iniziativa della signora cucurullo. Si beve un bicchiere d'acqua che qualichiduno gli aveva portato e indicando l'altare maggiore con l'indice che gli tremoliava parlò a così in vascio che in molti non lo sentirono. «I cannileri!» Tutti i fideli solamente in quel preciso momento s'aggiunarono che i cannileri d'argento non erano più al loro posto. «Si la rubarono!» disse pace carnazza. «Si la rubarono!» fece il coro dei fideli segnandosi «Sacrileggio!» gridò pace carnazza «Sacrileggio!» ripetè il coro. Prontissima la signora Ersilia cucurullo in imbrò in tono un inno «Qual è il frutto del peccato?» originariamente in latino ma che nella sua versione suonava pressappoco a cussì «Quali frutti mabuisti del piccato caffacisti!» «Nelle fiammi dell'inferno ora arrosti a fuoco eterno!» «Andiamo a denunziare questo furto sacrilego!» ordinò pace carnazza che pareva tanticchia ripigliato dal sintomo di prima. «A denunziare! A denunziare!» fece il coro. Niscirono tutti dalla chiesa a quali chiduno ci parse una processione e si inginocchiò. Spedita la lettera Giovanni risalì la via Atenea stavolta quasi deserta incontrò i tre giovanetti che ciondolavano tristemente non avendo chi salutare. Trovò il salone del barbiere ed entrò. Era senza clienti la maggiore affluenza di barba e capelli cade di sabato. C'era un uomo in camice bianco quasi della sua stessa età e un bambino con una spazzoletta in mano che si guardava nello specchio. «S'accomodasse!» fece l'uomo indicandogli una delle tre sedie del salone. «Una accorciatina ai capelli e una spuntatina ai baffi» disse Giovanni sedendosi. «E la barba non la vogliamo fare?» «Facciamola!» acconsentì Giovanni. Il barbiere gli annodò attorno al collo un asciugamano grande quanto un lenzuolo e cominciò a lavorare e naturalmente a parlare. «Vossia forestieri e...» chissà perché non ebbe il coraggio di dirgli una cosa per un'altra. «Veramente sono nato a vigata ma poi aspettasse un momento!» l'interruppe il barbiere restando con la forbice a mezz'aria. «Ma disse a denti stretti Giovanni non si trattava più delle quattro chiacchiere in un salone da barbiere ma di un interrogatorio sbirresco!» «Ah!» commentò il barbiere e ripigliò a lavorare in un silenzio che Giovanni intuiva provvisorio. «E infatti mi scusasse signori spettori suo pace si chiamava Pietro e sommace di Stefano Carmela erano riusciti persino a conoscere con esattezza i suoi dati anagrafici ma come diavolo avevano fatto? Sì ma lei come ha fatto a sapere? Memace si chiamava di Stefano Giuseppa ed era la sorella maggiore di sommace Carmela poi si maritò con Ingrassia Filippo che era me pace cuscini stritti di primo grado siamo un cugino e venne travolto dal ciclone Fefe Ingrassia sollevato dalla sedia con il lenzuolo al collo abbreciato baciato stritolato sbatacchiato ora chiudo il salone e tu vieni a manciare a casa mia viene ad accanoscere a mo mogliere ai miei figli questo è uno domandò Giovanni indicando il ragazzino impietrito con la spazzola in mano no questo è un nipote maria santissima di chianci mi viene per la commozione basta chiudiamo non finisci di tagliarmi i capelli chiese timidamente Giovanni non posso cucino mio proprio non posso fidi mi trema troppo la mano ti farei i capiggi scale scale il diligato spampinato fece firmare a pace carnazza la denunzia del furto dei due cannileri e dopo spiò il sacristano a che a che ora hai chiuso la porta della chiesa all'idui di dopo pranzo e l'arra apri alle quattro che già c'era la signora arcilia che aspettava picciasiri e quindi hai aggiungato i cannileri non sì e per chi forse che i cannileri non c'erano più non sì io non vitti se c'erano o non c'erano i cannileri vanno aggiumati solamente pila santa messa di la domenica mattina bisogna fare un sopralloco disse la mantia il vice dirigato in dovi spiò pace carnazza allarmato i cannileri li aveva proprio sul tavolino della camera di manciari già esposti e pronti per la venuta di cesina la mattina appresso come in dovi in chiesa e sedi necessario magari in sacristia nel quartino di vossia si risentì la mantia zama signore reagì il parrino una perquisizione nella mia casa sarebbe sacrilegio ma come si infuscò la mantia in chiesa si e in casa voscia no la chiesa è di tutti la casa mia è mia e vi avverto se periquisite la me casa le fiamme dell'inferno va bruceranno per l'eternità anatema sopra voi sopra i vostri figli sopra i figli dei vostri figli sopra i figli dei vostri figli figli fece il coro a voce vascia e minacciosa va bene va bene troncò spampinato che non credeva a niente ma che era dell'opinione che per il sì o per il no meglio sempre era quartiarsi andiamo a dare un'occhiata solamente in chiesa niscirono in processione dalla delegazione e subito si sparsero in paesi due voci contrastanti la prima era che il delegato si era finalmente persuaso ad arrestare quell'anima dannata di pace carnazza la seconda era che il delegato spampinato miscredente bestemmiatore in seguito a un'apparizione notturna della madonna si fosse di colpo convertito e andasse in chiesa a domandare perdono dei piccatazzi suoi trascinato in casa di fefè in grassia giovanni venne presentato alla di lui consorte serafina madre dolorosa di due piccoli delinquenti comuni michele di anni dieci e saverio di anni otto i quali non fecero altro che picchiarsi piangere e inseguirsi da una stanza all'altra sbattendo le porte manciarono pasta asciutta coniglio alla cacciatora cacio con le spezie in previsione degli inevitabili incubi notturni da difficile digestione giovanni tentò di rifiutare una porzione gigante di cassata ma non ci fu verso il cugino fefè evidentemente col suo mestiere di barbiere non se la doveva passare tanto male durante la cena parlarono della loro parentela ma non c'era la possibilità di avere memorie comuni quindi la signora serafina a forza di schiaffoni e qualche pedata costrinse i due delinquenti ad andare a letto e anche lei ci andò stremata i due uomini restarono soli la chiacchierata iniziata alle otto e mezzo finì tre ore dopo chiacchierata per modo di dire perché parlò quasi sempre fefè in grassia e così Giovanni apprese che l'angiuria o soprannome con la quale il suo superiore era canosciuto a Monteluse e dintorni era quella di scrafaglio merdarolo e ne ebbe spiegate le ragioni con abbondanza ad esempi la sua padrona di casa donna cesina cicero era indubbiamente una grandissima bottana beggia su questo non si discuteva ma cagliorda vivo il povero marito gli aveva messo le corna prima con arazio stancampiano commerciante di frutta e verdura dopo con totolo presti possidente e dopo ancora con il geometra cimarchi morto il marito si era messa prima con ignazio spampinato frati del diligato dopo con l'avvocato fasulo e dopo ancora con pace carnazza parroco della macice il quale pace carnazza era cognito che oltre ad essere un grandissimo femminaro usava praticare prestiti di danaro dalle parrocciane si faceva pagare in natura agli uomini invece li scorciava vivi gli levava la pelle il povero tinino fiannaca si era attaccato una mazzara al collo e si era gettato nel mare di vigata proprio per chi per un prestito di 5.000 lire il parrino l'aveva ridotto in miseria il quale pace carnazza sempre lui prima o dopo l'avrebbe pagate tutte col palmo e l'agnutticatura e fece giovanni ti lo scordasti come si dici è la misura del panno un palmo e un pollice ripiegato per buon peso quali chi marito giluso o quali chi d'uno che avendo avuto prestato deci ne doveva restituire mille ah notizia fresca fresca prima di donna cesina il parrino ficcava con si donna rumilda brucculeri mogliere del ricevitore postale ebbene il giorno avanti il signor ricevitore era stato visto da tutti passiare nirbusamente davanti alla chiesa e dopo ciasili nella chiesa stessa quando non c'erano più funzioni lui che non ci metteva mai piede i paesani avevano fatto la supposta che il ricevitore aveva in ritardo saputo della tresca e voleva ora spiare conto e ragione al parrino il cornuto pacinzioso quando perde la pacenza è pericoloso assai il quale pace carnazza sempre e ogni sempre lui stava facendo ne sciripazzo il cuscino don memè che si era visto privare di una grossa eredità dai maneggi del parrino a memè moro ci restava solamente il fondo piercoco ma era opinione comune che magari quello finiva nelle sacchette di pace carnazza e allora chi l'avrebbe più tenuto a don memè moro certo come la morte che memè avrebbe sparato al cuscino parrino a proposito di sparatine bendicò il predecessore di giovanni era stato ammazzato pare perché gli era venuta troppa fame vale a dire che non si contentava chiù della parte che gli veniva passata per non ispezionare i mulini allora secondo te sarebbero stati i mugnai ad ammazzarlo aveva spiato giovanni e fefe strammato i mugnai ma che ti passa per la testa bendicò chius soldi non li voleva da loro quelli dei molini se qualichiduno gli ordina di dire che il vino è acqua lo dicono a proposito di acqua il predecessore del predecessore tutto bene non era caduto in mare ma vi era stato gettato per le stesse ragioni per le quali bendicò era stato ritrovato in un vallone mangiato dai cani che uno che voleva campare in santa pace a montelusa doveva semplicemente fare attenzione a non disturbare l'avvocato fasulo il quale chi è don cocò afflitto l'interruppe giovanni non si aspettava di provocare la reazione che seguì fefe in grassia letteralmente saltò dalla seggia si precipitò a chiudere la finessa perché mi hai fatto questa dimanda ma io volevo tu questa dimanda a me non me la dovevi fare è meglio che ce ne andiamo a dormire si è fatto tardo sulla porta di scatto fefe abbracciò forte il cugino guardati gli murmuriò all'orecchio giovanni sorrise pensano che sono destinato a fare la stessa fine di tutto bene e di bendicò lo pensi magari tu fefe in grassia si fingì ammaravigliato ma che ti passa per la testa io ti dissi di guardarti per chi stanotte fa tanticchia d'uminità che bella nottata oceo da luna o s'allargava in sciacampagna paiva de giorno no passava una fia de vento giusto qualche bagietto de can qualche grillo cantadò a cavallo o Giovanni o chinava zù verso a cade vigata e o s'abbrancava con me o ciò se perso pe ma so lenzo a zeneise quella inta que o laiva impreso a vive e a raxona pe sarvase da oma grande di mocchetti di ceti di sospetti de fascite in te quelle asquesi negou a preuvo a oscesa in sicilian de so cosin fe fe a a di a a a Grazie a tutti